Lavorare in BIM significa usare uno strumento utilissimo proprio per l'aspetto di coordinamento, ma non solo. Significa sostanzialmente fare un progetto disegnato in 3D, con dei modelli 3D delle diverse discipline che si possono gestire contemporaneamente e che non solo contengono tutti gli aspetti geometrici del progetto, ma contengono anche gli aspetti informativi, vale a dire le prestazioni dei materiali, degli impianti, le schede tecniche, i manuali di manutenzione. Questo significa che interrogando il modello io posso poi, in fase di gestione e manutenzione dell'edificio, avere tutti quei dati informativi, ripeto non solo geometrici, identificare gli elementi che portano a un enorme vantaggio in termini di velocità, di tempi, di costi per la gestione e la manutenzione dell'edificio.